Poche ore dopo il salvagente lanciato da Roma al Molise per ripianare con 40 milioni il disavanzo di amministrazione che si aggira sui 570 milioni di euro, il governo regionale ha approvato una delibera che prevede l'aumento dell'IRPEF per i redditi superiori ai 28 mila euro. Una scelta obbligata, spiega l'assessore al bilancio Gianluca Cefaratti, alla luce dell'impegno preso proprio col governo. In linea con quanto sta facendo il governo Meloni, salvaguardato le fasce sicuramente più deboli. Questo aumento era necessario perché i conti della regione Muniris non sono sicuramente in ordine e così come avevamo preannunciato, per cui non c'è questa sorpresa in definitiva, abbiamo concordato con il governo centrale una linea da seguire. Noi abbiamo fatto il nostro dovere perché il governo centrale ci ha chiesto praticamente di aumentare le addizionali IRPEF e portarli al massimo per far sì che da parte loro ci potesse essere un aiuto così come si è concretizzato nei giorni scorsi e come si concretizzerà ulteriormente quando andremo a vedere la legge finanziaria per il 3 anni 2024-2026 per cui secondo me è un'operazione che porterà il Molise fuori dalle secche in cui attualmente è. Ma dall'opposizione non mancano le critiche del consigliere Roberto Gravina. Verrà aumentata l'IRPEF a partire dai redditi, insomma di sicuro non i più alti ma da 28 mila euro quindi si copierà in modo totale il certo medio annullando quello che tra l'altro era un mantra per il governo Meloni quello cioè di ridurre il quino fiscale e la riduzione dell'IRPEF. In Molise questo non avverrà evidentemente perché bisogna riparare ai danni che lo stesso centrodestra morisano in questi tanti anni di amministrazione regionale ha prodotto. Quindi una regione sommersa di debiti rispetto ai quali il governo ci tende una mano semplicemente chiedendoci di aumentare le tassi al massimo e questo chiaramente sarà un problema non soltanto evidentemente per le famiglie che dovranno sostenere questo costo ma soprattutto anche per coloro che vogliono investire in questa regione perché spaventa per qualsiasi imprenditore investire in una regione in cui la tassazione è davvero ai massimi livelli.